Salve a tutti i ben ritornati su Fammi Simulator 22. Un mese scorso, un mese e mezzo fa, feci un sondaggio sulla scheda community di youtube del mio canale dove vi chiedevo se volevate vedere una serie dove io costruisco. Però io avevo detto anche, avevo scritto più che altro, che iniziavo quando usciva la premium a novembre. Però siccome a me adesso serve una produzione che sarebbe la produzione delle bottiglie di latte, che è una mod, la trovate su Modab, allora che cosa faccio? Anticipo questa serie e partiamo proprio da questo video qui, ok? Quindi adesso partirà il video, la clip, ovviamente non velocizzata come mi è stato suggerito, per me non sono problemi. Allora partiamo con questa serie e niente, a tra poco. Grazie a tutti. 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 Errore mio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Va bene. Va bene, va bene. Allora. E questo lo faccio. va bene. e vediamo se... Ok. Adesso vediamo un po' punti di punti. Abbiamo anche il posto. dove andare a vendere. i pallet di latte. ovviamente, come è un po' trovate i link direttamente del canale in descrizione tra cui anche altri link e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao